cari amici a proposito del mess hanno mentito tutti e continuano a farlo e oggi vedremo anche perché e lo vedremo attraverso gli stessi documenti del consiglio europeo era il 22 gennaio 2019 ed io pubblicavo un video dal titolo abbastanza esplicito ovvero ci stanno portando dentro gli stati uniti d'europa e qualche uno dei 5 stelle della lega se la prese un po mi criticarono perché non ci potevano credere nemmeno davanti all'evidenza potevano credere che proprio i loro beniamini di maio salvini e conte stavano accelerando il processo per formare gli stati uniti d'europa nessun organo di informazione però ne parlava e questo perché in italia non è usanza informare i cittadini di quello che avviene nell'unione europea e soprattutto di quello che viene deciso al consiglio europeo però se lo spread si alza anche di soli 10 punti scoppia il finimondo e certo perché lo spread che fino a pochi anni fa non sapevamo nemmeno che cosa fosse ebbene lo spread è la loro arma anzi è il diversivo con il quale ci minacciano ci terrorizzano e soprattutto ci distraggono insomma silenzio totale per più di un anno poi tre giorni fa scoppia il finimondo e tutto sarebbe partito è partito da un articolo del quotidiano la verità che poi tutti i quotidiani hanno ripreso e lo hanno indicato come se fosse uno scoop che però in realtà non c'era nessuno scoop qual'era la notizia la notizia è era è che conte nel corso dell'ultimo consiglio europeo di giugno avrebbe firmato la riforma del mess del meccanismo europeo di stabilità salvini urla al tradimento borghi si indigna al grido non ci avete mai informato di nulla giorgia meloni parte all'attacco e gli fa eco anche paragone non vi spiegherò nel dettaglio che cos'è il mess cioè il meccanismo europeo di stabilità ma in due parole praticamente è una cosa mostruosa travestita da fondo salva stati e quindi è una cosa che dovrebbe aiutare gli stati in difficoltà economiche e come prestandogli dei soldi però in cambio di questi soldi il mess pretende che quello stato si impegni in rigidissime manovre economiche che normalmente sono ultra recessive e ovviamente queste manovre vengono stilati dagli esperti del mess e non solo nel caso poi quel povero stato non sia in grado di restituire i soldi che ha ricevuto beh in quel momento scattano delle sanzioni pesantissime e questo senza dimenticare che alla fine la garanzia del prestito che si riceve dal mess sono alla fine i beni la proprietà pubblica insomma il mess presta i soldi ma di fatto lo stato viene commissariato e spogliato della sua sovranità un esempio lampante è proprio quello della grecia no che venne commissariata in grecia decideva tutto la troica ricevette i soldi del mess ma questi soldi non finirono certo nelle tasche dei greci che ne avevano bisogno ma servirono finirono alle banche e servirono proprio per salvare le banche francesi e le banche tedesche che erano quelle maggiori maggiormente esposte con i titoli di stato greci mentre la popolazione greca al contrario è stata portata alla fame e dalla miseria il mess è stato istituito nell'ottobre del 2012 e l'italia con 125 miliardi di euro è il terzo contributore del mess dopo la francia e la germania la cifra cioè questi 125 miliardi non sono stati interamente versati una parte è stata versata mentre il restante è comunque garantito dal nostro paese per esempio se l'italia dovesse richiedere l'aiuto del mess il suo debito verrebbe passato ai raggi x verrebbe fatta un'analisi di sostenibilità del debito in pratica gli esperti del mess farebbero darebbero una pagella ma in caso che questa pagella non fosse tanto buona insomma che avesse dei voti bassi beh in quel caso allora potrebbe scattare automaticamente la ristrutturazione del debito che sarebbe una catastrofe sia per le banche che per i sottoscrittori dei nostri titoli di stato in breve ci porterebbero via tutto e saremmo ridotti alla fame come sottolinea lo stesso direttore di banca italia i piccoli e incerti benefici di una ristrutturazione del debito devono essere bilanciati con il rischio enorme che il semplice annuncio della sua introduzione possa innescare una spirale perversa di aspettative di default le quali potrebbero rivelarsi autoavveranti praticamente visco dice che anche solo le aspettative di default quindi il pericolo di default provocherebbero il default stesso anche se visco si dimentica di dire che la stessa ristrutturazione del debito sarebbe una vera e propria catastrofe ora capite bene che stiamo parlando di una cosa pericolosissima e che per di più ci impegna a versare miliardi di euro per un fondo che però non potremmo mai utilizzare perché se mai decidessimo di chiedere aiuto al mess automaticamente decreteremmo la fine del nostro paese bene i 5 stelle hanno fatto una della battaglia al meccanismo europeo di stabilità una vera e propria bandiera e hanno lo hanno fatto per anni così come hanno fatto gli stessi borghi bagnai e compagnia bella ma la verità è che sono tutti d'accordo la verità è che il governo conte 1 il governo giallo verde il governo del cambiamento l'unica cosa che ha cambiato sono le promesse che ha fatto prima di essere eletto prima di di andare al governo mentre predicava di essere anti europeista di opporsi all'unione europea mentre fingeva di essere sovranista conte al consiglio europeo di nascosto ma con il benestare dei suoi due vice premier nonché con il silenzio complice dei media avvallava tutte le proposte europee e questo lo sapevano tutti e su questo erano tutti d'accordo e infatti questa volta devo dare ragione a conte che ha risposto duramente a salvini tramite palazzo chigi la revisione del trattato sul meccanismo europeo di stabilità maes non è ancora stato sottoscritto né dall'italia né dagli altri paesi e non c'è stato ancora nessun voto del presidente del consiglio giuseppe conte o degli altri capi di stato e di governo europei sul pacchetto complessivo di questa riforma si ricorda che in ogni caso il parlamento ha un potere di veto sull'approvazione definitiva della revisione trattato mess e avrà modo di pronunciarsi in sede di ratifica quindi prima di ogni determinazione finale in merito alla sua entrata in vigore chiaro il concetto conte non ha firmato nulla ma la riforma del mess sta per approdare in parlamento che dovrà ratificarla oppure speriamo respingerla ma il punto è che questo significa che tutti i governi hanno portato avanti la riforma del mess invece che fare l'unica cosa che avrebbero dovuto fare ovvero porre il veto non solo sulla riforma del mess ma sul mess stesso il fatto che il senatore salvini scopra solo adesso l'esistenza di un negoziato sul mess il trattato che regola il meccanismo europeo di stabilità è molto grave denota una imperdonabile trascuratezza per gli affari pubblici il senatore salvini all'epoca era vicepresidente del consiglio dei ministri nonché ministro dell'interno e avrebbe dovuto prestare più attenzione per l'andamento di questo negoziato tanto più che l'argomento è stato discusso in varie riunioni di maggioranza alla presenza di vari rappresentanti della lega insomma salvini non poteva non sapere poi conte aggiunge si ricorda che il presidente conte ha riferito alle camere il 19 giugno scorso accogliendo la risoluzione parlamentare che impegnava il governo ad esprimere una valutazione finale sul negoziato soltanto all'esito della definizione dell'intero pacchetto di riforme che oltre alla revisione del mess prevede la creazione di uno strumento di bilancio per la competitività e la convergenza nell'eurozona BIC e l'approfondimento dell'unione bancaria questo significa che il governo è disposto ad accettare il mess soltanto a pacchetto cioè soltanto insieme al BIC e all'unione bancaria il che è ancora peggio abbiamo visto che cos'è l'unione bancaria proprio nel corso di uno dei miei ultimi video ma veniamo alle prove veniamo ai documenti ringrazio l'avvocato Marco Mori che mi ha trasmesso la documentazione di cui tra l'altro parla nel suo ultimo video che è molto interessante consiglio a tutti di guardare questo video dell'avvocato Marco Mori Marco Mori che peraltro è stato proprio il primo a parlare di queste cose fin dal giugno del 2018 ma veniamo al punto il governo Conte si insedia il primo giugno del 2018 e poco dopo il 28-29 giugno sempre del 2018 Conte partecipa al Consiglio Europeo dove viene deciso quanto segue osservazioni del presidente Donald Tusk sulle riunioni del Consiglio Europeo del 28-29 giugno 2018 passando ai lavori di questa mattina il vertice euro ha convenuto come promesso in dicembre di procedere verso il completamento dell'unione bancaria e di rafforzare il meccanismo europeo di stabilità anche fornendo sostegno al fondo di risoluzione unico questa riforma del UEM rafforzerà l'euro e di conseguenza anche la nostra unione in questo periodo turbolento si tratta di una buona notizia per tutti i cittadini europei dichiarazione 29 giugno 2018 si dovrebbe iniziare a lavorare a una tabella di marcia al fine di avviare negoziati politici sul sistema europeo di assicurazione dei depositi 2. il MES fornirà il sostegno comune al fondo di risoluzione unico SRF e sarà rafforzato operando sulla base di tutti gli elementi di una riforma del meccanismo stesso indicati nella lettera del presidente dell'Eurogruppo l'Eurogruppo preparerà i termini di riferimento per il sostegno comune e concorderà la lista di condizioni per l'ulteriore sviluppo del MES entro il dicembre 2018 4. il vertice euro tornerà su dette questioni nel dicembre 2018 il vertice euro si compiace della dichiarazione dell'Eurogruppo del 21 giugno 2018 sull'esborso finale dei finanziamenti del MES alla Grecia e sulle misure di alleviamento del debito a medio termine che completano con successo il programma di assistenza finanziaria alla Grecia quindi a giugno 2018 sotto il governo giallo-verde Conte avvalla lo sviluppo del meccanismo europeo di stabilità e non solo si stabilisce che entro dicembre del 2018 vengano anche valutati termini e condizioni ma per valutare la follia la follia spietata di queste persone basta leggere l'ultima riga dove si definiscono gli aiuti finanziari alla Grecia un grande successo ma adesso vediamo cosa si decise nel Consiglio europeo del dicembre 2018 osservazioni del presidente Donald Tusk a seguito delle riunioni del Consiglio europeo e del vertice euro del 14 dicembre 2018 un anno fa abbiamo promesso passi concreti per rafforzare l'unione economica e monetaria oggi i leader hanno mantenuto tale promessa innanzitutto grazie a un accordo per creare il sostegno comune al fondo di risoluzione unico in secondo luogo convenendo di fornire al meccanismo europeo di stabilità maggiori poteri per prevenire e gestire le crisi finanziarie queste due decisioni che significano modificare il prima possibile il trattato MES rafforzano notevolmente l'unione monetaria inoltre i ministri delle finanze accelereranno i lavori su uno strumento di bilancio della zona euro che ed è importante sarà adottato in formato inclusivo da tutti gli stati membri nel contesto del bilancio a lungo termine dell'unione europea quindi a dicembre 2018 il Consiglio europeo ha convenuto di conferire maggiori poteri al MES e questo implica automaticamente di rivedere il trattato del MES il di riformare no questo trattato il prima possibile ora come si fa a dire oggi e mi riferisco a tutti i politici e a nessuno escluso e anche a tanti giornalisti che nessuno ne sapeva niente dove erano? a giugno e a dicembre 2018 ma veniamo alle decisioni del Consiglio europeo di giugno 2019 vertice euro 21 giugno 2019 principali risultati il vertice euro in formato allargato e leader dell'unione europea a 27 ha esaminato la situazione economica insieme al presidente della banca centrale europea BCE Mario Draghi il leader hanno discusso inoltre sul lavoro svolto dall'eurogruppo riguardo all'approfondimento dell'unione economica e monetaria UEM in particolare sui seguenti aspetti lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività BIC applicabile alla zona euro le modifiche al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità MES il rafforzamento dell'unione bancaria osservazioni del presidente Donald Tusk a seguito della riunione del vertice euro del 21 giugno 2019 i leader hanno discusso dell'ulteriore rafforzamento dell'unione economica e monetaria abbiamo preso atto dell'ampio accordo su uno strumento di bilancio della zona euro l'eurogruppo in formato inclusivo proseguirà i lavori su tale strumento con l'obiettivo finale di integrarlo nel bilancio a lungo termine dell'unione europea i leader prevedono anche che i lavori sul trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità MES siano conclusi entro la fine del 2019 quindi a giugno 2019 con il governo giallo-verde in carica Conte insieme ai suoi colleghi al consiglio europeo ha deciso che il MES deve essere riformato entro dicembre 2019 entro dicembre 2019 avete capito è adesso e questo significa che lo sapevano tutti significa che sono tutti d'accordo e che questo teatrino messo in su in questi giorni in cui si attacca l'uno con l'altro si danno la colpa l'uno con l'altro è solo un modo per appunto dare la colpa a qualche un altro mentre in realtà sono tutti d'accordo e tutti sanno tutto e quello che è certo è che nessun partito che si autodefinisce sovranista può dire che non era al corrente di nulla perché tutte queste decisioni sono state prese con la Lega e il Movimento 5 Stelle al governo un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio grazie a tutti Grazie a tutti.